...naturale. Luca? Prego. Papa? Sì. E la mamma? Una sua... Sono entrato qui, che avevo quattro anni. Adottato. Visto il padino? Sì. Eh, andiamo. Tra un'ora, torna a prenderti. Sarà tua. Grazie. Ti farò spendire due casse di bottone. Di madre, perla! Attacchi. I didn't know we had to go. I didn't know we had to go. Symphony? J'ai capito? È un'ora... Ecco, ti ho trovata, adesso tocco il polpaccio. Per quello che voglio, mi piace.